Ciao ragazzi, oggi andremo a parlare di palle inattive. Come sapete questo è un aspetto fondamentale nel calcio e spesso sono determinanti per la vittoria o la sconfitta di una squadra. E sono importanti tanto nella fase offensiva, creando schemi per segnare, che nella fase difensiva, dove è importante avere delle strutture ben definite e ben organizzate per cercare di contrastare tutti gli schemi e le soluzioni avversarie. E oggi andremo a studiare e ad analizzare proprio questo aspetto, come difendono su calcio d'angolo le sei squadre top di Serie A. Partiamo dall'Inter di Inzaghi, dove prendiamo le immagini di un amichevole prestangionale, dove i nero-azzurri in area di rigore difendono a uomo con due giocatori a zona, posizionati entrambi nell'area piccola e poi magari possono cambiare la loro posizione iniziale in base alla partita, ma uno rimane sempre oltre il primo palo per gestire magari le spizzate, mentre l'altro è più verso il centro della porta. Tutti gli altri, come detto, rimangono a uomo sul proprio riferimento e lo seguono in tutta l'area di rigore andando al duello uno contro uno. Sul punto di battuta, invece, inizialmente la squadra nero-azzurra concede superiorità numerica agli avversari. Quindi l'Inter di Inzaghi, due giocatori a zona dentro l'area piccola e tutti gli altri a uomo e concede superiorità in battuta. Passando alla Juventus di Allegri, anche qua dall'amichevole contro il Real Madrid, vediamo che l'atteggiamento è diverso. Dove ci sono due giocatori a zona oltre il primo palo, poi leggermente più avanzati a partire dal limite dell'area piccola, un'altra linea di quattro giocatori sempre a zona e davanti a loro altri due o tre uomini che rimangono anche loro a zona. Quindi è una difesa totalmente che si basa sul principio della zona. Con queste tre linee formati da due giocatori, quattro e ancora due, più altri due giocatori più avanzati, quasi al limite dell'area, che si posizionano in funzione di quella che è la posizione degli avversari. Quindi se gli avversari tengono molti giocatori fuori dall'area di rigore, stanno vicino a loro, oppure se ne portano tanti vicino al punto di battuta, cercano di seguirli, rimanendo così costantemente con otto giocatori vicino al portiere, più altri due che si possono muovere e possono gestire appunto gli avversari. Quindi dall'Inter a uomo alla Juve a zona, passiamo alla Lazio di Sarri, che anche qua si basa sul principio della zona, dove ci sono sette giocatori all'interno dell'area piccola, tre rimangono davanti al portiere, tre formano una linea leggermente più avanzata al limite dell'area piccola e uno invece è oltre il primo palo per andare a gestire la spizzata. Oltre a questi sette uomini, altri due si posizionano leggermente più avanti rispetto alla seconda linea, anche in questo caso in funzione della posizione degli avversari, però rimanendo sempre in quella zona di campo al centro dell'area di rigore. Concedono anche loro superiorità in battuta con un solo giocatore, in questo caso Zaccagni, che va a gestire i due vicini al punto di battuta. E anche contro lo Spezia vediamo proprio questa disposizione, con sette giocatori nell'area piccola, due leggermente più avanzati, e uno invece a gestire un giocatore vicino al punto di battuta. Il Milan di Pioli invece sceglie una zona mista, quindi ci sono sei giocatori nei pressi dell'area piccola, qua li vediamo nella partita contro il Colonia dell'amichevole precampionato, due giocatori invece al centro dell'area di rigore che vanno a uomo su due riferimenti solitamente i più pericolosi della squadra avversaria, e altri due giocatori più avanzati che invece rimangono al limite dell'area di rigore. Anche qua dal punto di battuto opposto stessa disposizione, e anche in un'altra amichevole precampionato sempre questi sei giocatori, di cui tre scaionati sulla linea del primo palo, e oltre un'altra linea di tre giocatori nei pressi del limite dell'area piccola, i due a uomo e i due più avanzati al limite. Passiamo quindi al Napoli di Spalletti, anche lui utilizza sei giocatori all'interno dell'area piccola, di cui tre sulla linea del primo palo, e uno invece posizionato sul secondo palo, i due giocatori poco più avanti che rimangono sempre a zona, e poi altri due uomini liberi di gestire gli avversari, solitamente uno rimane al limite dell'area, mentre l'altro va a gestire i giocatori in battuta. Qua contro lo Spezia nella scorsa serie ha proprio questa disposizione, con i tre sul primo palo, un giocatore sul secondo, e poi gli altri giocatori in mezzo all'area di rigore, che rimangono sempre a zona. In alcune partite poi, in caso di saltatori particolarmente pericolosi, Spalletti sceglie anche di utilizzare una zona mista, con due o tre giocatori a uomo. Infine, l'ultima squadra che andiamo ad analizzare è la Roma di Mourinho, siamo partiti dall'Inter di Inzaghi a uomo, e finiamo appunto con la Roma anche loro a uomo. Quindi con tutti i giocatori accoppiati con i riferimenti, e i due giocatori a zona davanti al portiere, uno più sul primo palo, uno più centrale, proprio come abbiamo visto fare ai neroazzurri. In questo caso i due giocatori a zona erano Matic sul primo palo, e Abram invece al centro. Queste immagini di due amichevoli precampionato, in cui si vede proprio questi accoppiamenti di tutti i giocatori, e invece due liberi a gestire l'area piccola del portiere. Quindi questi sono i modi di difendere delle sei principali squadre di Serie A. Ovviamente quasi tutte hanno un modo diverso di difendere dall'altro, con strutture differenti, e questo dimostra il fatto che non ci sia un modo giusto, un modo sbagliato di difendere, ma solo l'idea dell'allenatore, e magari spesso questa è influenzata anche dalle caratteristiche dei giocatori. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate in questo video, qual è il sistema di difesa che più vi piace, e noi ci vediamo alla prossima analisi tattica.